e quindi può ripartire l'azione del Pizza Luigi Baccaro ha spazio da lì, può calciare ma in porta la sfera, sorprende Modipierno e c'è l'1 a 0 del Pizza Luigi che ha prefitto dell'errore tra i panni di Modipierno difficilmente prevediamo uno schema da lì il colsà di Baccaro la palla filtra, doppietta del numero 7 e doppio vantaggio del Pizza Luigi a due minuti dall'inizio della ripresa bravo a tenere in campo il pallone può distendersi di Milenium Bar con Moreira sembra essersi ripreso dal colpo di prima ancora Moreira, guarda il faccio per il sinistro Boaventura la tiene anche in campo situazioni di 2 contro 1 Boaventura per Borsato e contro Moliterno ci prova Borsato apre il piattone, 3 a 0 del Pizza Luigi Boaventura bel dribbling secco su schienina ancora Boaventura velocissimo arriva il limite dell'area e a Boaventura una rete fantastica del numero 18 vale il 4 a 0 del Pizza Luigi a